Cosa segnalano i cittadini? Ma segnalano la difficoltà nel muoversi, nell'attraversare le strade quando rientrano a casa, i bambini che rifanno il tempo continuato a scuola, che devono comunque tornare verso le proprie abitazioni con il buio, la mattina chi va al lavoro, quindi è una situazione che è sfuggita di mano dell'amministrazione comunale. Il Partito Democratico Aretino chiede così di far luce sulle misure adottate per il contenimento dei consumi energetici. Il Comune di Arezzo, infatti, per far fronte al caro energia, aveva deciso per la riduzione dell'illuminazione pubblica, posticipando l'orario di accensione e anticipando quello di spegnimento degli impianti per due ore complessive al giorno. Una misura poi rivista, non posticipando più l'accensione di un'ora alla sera, ma solo di 20 minuti, correzioni che comunque sarebbero insufficienti a risolvere i disagi secondo il PD. Noi chiaramente siamo d'accordo che il Comune, come tutti i cittadini, faccia la propria parte per ridurre i consumi in questo periodo particolare di crisi energetica. Ma non siamo assolutamente d'accordo con le misure che ha preso l'amministrazione comunale, che sta creando molti risasi ai cittadini, sia nel tardo pomeriggio, con l'accensione ritardata degli impianti, sia anche la mattina presto, invece, con lo spegnimento anticipato. Ci sono problemi seri, ci sono anche dei primi incidenti, nel senso che qualche persona ci risulta che sia caduta nelle buche di un marciapiede della strada. Quindi penso che l'amministrazione comunale debba prendere provvedimenti per cambiare queste misure. E in più ci viene anche un dubbio. Visto che il servizio di gestione della pubblica illuminazione è affidato a una ditta, la quale deve fare, oltre alla manutenzione degli impianti, l'efficientamento energetico, anche deve fornire l'energia elettrica. Quindi, per chi è il risparmio? Per il Comune o per questa ditta? L'altro aspetto che hanno segnalato anche alcune associazioni di categoria è proprio questo. La mattina presto i soggetti che vanno al lavoro trovano il buio, potrebbero essere questo troppo buio, potrebbe anche aumentare il problema dei furti. Quindi, davvero, noi chiediamo che l'amministrazione cambi questi provvedimenti e che non faccia ricadere sui cittadini questi disagi. Proponete anche delle soluzioni. Quali potrebbero essere? Dove è possibile fare chiaramente un'accensione alternata dei lampioni. Non dappertutto sarà possibile, ma dove pensiamo che sia una cosa auspicabile. E al limite anche di sospendere l'illuminazione pubblica magari durante la notte un paio d'oro. Consapevoli che questo potrebbe portare anche qualche altra difficoltà di altro tipo, ma se l'amministrazione ha scelto di risparmiare sulla pubblica illuminazione non ci sono altre soluzioni.